Ieri a luna di notte circa non riuscivo a prendere sonno e quindi mi sono messo a guardare i video su YouTube e adesso diciamo che ho l'home page piena di video di curiosità matematiche e scientifiche a livello di fisica La matematica mi sono imbattuto nel numero di grammi, numero intero più grande mai utilizzato in una dimostrazione seria che non ho capito cosa vuol dire dimostrazione seria perché ci sono anche dimostrazioni ironiche Comunque detto questo vorrei scrivere qui il numero più grande mai utilizzato ma è così grande che è impossibile anche solo scriverlo perfino utilizzando la notazione scientifica quindi tipo 10 alla 10 o 10 alla 10 alla 10 alla 10 alla 10 è così grande che per tenere in memoria questo numero qui ci vorrebbe la grandezza di un computer come l'intero universo osservabile cioè folle per la costruzione di questo numero potete guardare ad esempio la pagina di wikipedia interessante ma abbastanza complesso comunque è folle quindi l'obiettivo del 2024 è trovare il numero più grande più grande del numero più grande che non basta fare numero di gram più uno perché bisogna poi far sì che questo numero sia utile in qualche dimostrazione detto questo vi auguro a tutti un buon anno e il 2024 sarà senz'altro un anno davvero curiosi ciao ciao